cari amici sportivi ben ritornati qui al torneo match talent summer 2016 eccolo qui il primo uomo match talent di questa grandissima avventura lorenzo buonaccorsi buonasera buonasera lorenzo un esordio piuttosto leggero in base alle vostre qualità calcistiche avete vinto il primo match con il risultato di 9 a 0 quest'anno il tuo team win bet 365 sceso la squadra molto composta con elementi di altissima qualità calcistica ma diciamo alla fine ci divertiamo oggi abbiamo fatto una bella prestazione speriamo di continuare così e magari giocarci questo torneo abbiamo lottato su tutti i palloni anche se stavamo 9 a 0 ce la giocavamo sempre e spero che comunque si andrà andrà tutto bene ringraziamo ufficialmente lorenzo buonaccorsi la qualità di un team win bet 365 che direi strabiliante qui dal torneo match talent per il momento del tutto e per te migliori in campo e chiedere di omaggio grazie grazie